L'idea di poter allestire una parte del mercatino di Natale all'interno della villa comunale non è stata abbandonata del tutto. Per quest'anno però le 55 pagodine verranno posizionate in via Costa e nella carreggiata interna di via San Francesco d'Assisi. L'assessore Coclite placa così le polemiche scoppiate nei giorni scorsi per aver avanzato la proposta del mercatino in villa. Qualsiasi tipo di decisione ha detto l'assessore viene presa tenendo conto delle esigenze di tutti i cittadini, commercianti e fruitori. Passa poi ad illustrare le caratteristiche degli espositori. Fuori tutto ciò che nulla ha a che fare con il Natale. Da troppi anni infatti il mercatino era pieno di merci varie. Da quest'anno si è preferito ridurre il numero dei commercianti a favore della qualità e quindi sia giocattolai, articoli da regalo quali biciotteria, profumi e cosmesi e poi tanti dolciumi. Cambia anche l'orario di apertura e di chiusura e ci sarà maggiore attenzione all'igiene. L'assessore si toglie poi un sassolino dalla scarpa rispondendo ai componenti del comitato Villa Libera per i bambini. Domenica a partire dalle 9 e dopo ogni ora ha fotografato il centro della villa per vederne l'affluenza. Beh, dalle foto non molte persone hanno frequentato i giardini pubblici.